Non è strano che tu soffra, i mortali portano solo problemi, lo sa. Disse la strega che ebbe una storia con Mark Twain. Che vuoi che ti dica? Mi sono sempre piaciuti gli uomini con i baffi. Anche a me? Ma solo se appartengono a Freddie Mercury? Ecco perché mi hai trascinata a tutti quei concerti dei Queen. Su We Will Rock You ti sarai accidato. Oh, non essere oscena. Io mi innamoro prima dell'anima e poi via nel sesso. Ti eri innamorato anche della mia di anima. Tra noi è stato meraviglioso. È stato... Accidenti, è passato quasi un secolo. Ma mi riferivo ad altro. E perché non cerchi l'anima di uno stregone di cui innamorarti così? Quando il clave farà guerra ai nascosti, il tuo ragazzo non dovrà prenderti un campione di saliva. Ok, se reputi di stregoni creature straordinarie, perché non sei andata a letto con un affascinante mezzo demone negli ultimi sei decenni? Non che io li abbia contati? Tu sì. Forse perché è difficile trovare uno stregone sexy che viva in questa dimensione. E che sia anche un bravo ballerino. Signorina Dorotea, mi sta sfidando? Grazie. Grazie.